A largo della costa brasiliana, questi delfini hanno intrapreso una proficua collaborazione con i pescatori locali. Se pensate che solamente gli animali domestici siano capaci di collaborare, beh, siete fuori strada. Questi delfini hanno scelto di guidare i pesci nelle reti dei pescatori e segnalano loro dove e quando gettare le reti salendo in superficie e poi rituffandosi. Nella confusione si appropriano di parte del bottino in modo che ci siano vantaggi per tutti.